Sì alle foibe, no alla Shoah il Consiglio Comunale di Trapani ha approvato una mozione sulle radici della memoria ma in aula la maggioranza si sfalda dopo l'emendamento presentato dalla consigliera Giulia Passalacqua che intendeva estendere la mozione anche alle vittime dell'olocausto e non limitarla solo a quella delle foibe e questa è la nostra notizia del giorno. Una mozione per commemorare le vittime delle foibe, quindi un gesto di umanità che però ha finito per creare dissidi all'interno della maggioranza in Consiglio Comunale che ha deciso di non approvare l'emendamento presentato dalle consigliere Giulia Passalacqua e Marzia Patti del Partito Democratico che hanno voluto estendere la proposta del consigliere Nicola Lamia contemplando anche un gesto similare per le vittime dell'olocausto. Con la mozione sulle radici della memoria in pratica il Consiglio Comunale di Trapani impegna l'amministrazione a farsi promotrice di iniziative e attività per la divulgazione della memoria negata delle vittime delle foibe. L'iniziativa, sposata e presentata dal consigliere Nicola Lamia, è stata suggerita e portata avanti dal Circolo di Erice e di Fratelli d'Italia. Il Presidente del Circolo, Leonardo Torri, infatti ha dichiarato che si aspetta presso l'intitolazione di una piazza o di una via alla memoria dei martiri delle fobi. Poi ha precisato che altre iniziative, in particolare la presentazione della stessa mozione, coinvolgeranno a breve altri comuni a partire da quello di Erice. L'aula consigliare ieri però ha deciso di bocciare la proposta di Passalacqua e Patti e questo ha creato un ulteriore momento di frizione e riflessione all'interno della maggioranza consigliare. Ecco, a questa mozione io e la consigliera Patti abbiamo presentato un emendamento integrativo per far sì che, oltre ad attività di promozione di quell'evento storico, venissero portate avanti anche delle attività di ricordo e di conoscenza della giornata della memoria della Shoah. In maniera sbalorditiva l'aula consigliare ha bocciato questo emendamento ed è come se avesse detto sì al ricordo delle foibe e no a quello della Shoah. Ma c'è un problema quindi di maggioranza politico? È chiaro che questo pone una questione politica all'interno della maggioranza e che il Partito Democratico prende atto di questa scelta da parte dei componenti della maggioranza. Ancora più duro il sindaco Giacomo Tranchida che in una nota diramata la stampa si dissocia da quello che definisce un improvvisato e superficiale atteggiamento è precisa che il voto del consigliere Mazzeo che è anche assessore non può rappresentare in alcun modo la posizione della Giunta ed ancora meno l'analogo ed equivocabile voto, così lo definisce, dei consiglieri di maggioranza dai quali prende decisamente le distanze e si scusa con i trapanesi. Chiudiamo qui il nostro spazio dedicato alla notizia del giorno, vi aspetto tra poco come sempre con le altre notizie. Droga, un arresto e una denuncia, questo è il bilancio di un'attività eseguita dai carabinieri di Trapani che hanno sequestrato cocaina, hashish e crack. Il boss, la malattia, l'arresto, il luogotenente dei carabinieri del ROS, Francesco Nasca, ricostruisce l'iter delle indagini culminate con la cattura del boss Matteo Messina Denaro. Festa di primavera a Valderice, questa mattina cerimonia per ricordare bambini vittime di mafia e di guerra. Il Capodanno Bai, si tratta di un'antica festa che coinvolge anche la piccola comunità presente nel Trapanese. E poi allo sport, ecco il nuovo coach Andrea Diana, allenerà la Trapani Shark, per lui contratto fino a giugno 2025. Rito e tradizione continuano a Marettimo i festeggiamenti per la festa di San Giuseppe. Oggi pomeriggio, processione per le vie dell'isola, ne parleremo nell'approfondimento di oggi. Buongiorno a tutti voi da parte mia e di tutta la redazione di Telesud. Apriamo con la cronaca un arresto e una denuncia. Questo è il bilancio di un'attività antidroga svolta dai carabinieri di Trapani. Giro di vite dei carabinieri di Trapani contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città e nel suo interland, un fenomeno che continua ad essere ben radicato nel territorio, nonostante l'incalzare delle forze dell'ordine della magistratura e che spesso coinvolge insospettabili, attratti dalla prospettiva di fare soldi facili. Un arresto e una denuncia, il bilancio di un'attività antidroga. In carcere è finito un pregiudicato di 36 anni che era già agli arresti domiciliari. I militari dell'arma hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, rimedendo e sequestrando 45 grammi di cocaina e 35 grammi di crack, pronti per essere messi in commercio. Sequestrati anche denaro contante per un importo complessivo di 2.500 euro in banconote di diverso taglio. I proventi, secondo gli investigatori, dell'attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato rinchiuso al Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma non è tutto perché in un'altra distinta operazione, i carabinieri hanno fermato e denunciato un diciannovenna. Sottoposto ad un controllo aumentare per le vie del centro storico, sarebbe stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Alla vista degli uomini in divisa, avrebbe occultato in un'aiola un involgo contenente altri 30 grammi della stessa sostanza stupefacente. Un esame in uno studio medico di Marsala. Così il boss Matteo Messina Denaro scoprì di essere affetto da tumore. Emergono nuovi particolari sulla malattia del padrino di Castelvetrano. Matteo Messina Denaro ha scoperto la sua malattia con una colonoscopia effettuata il 3 novembre 2020 nello studio medico del dottor Bavetta a Marsala. Lo ha rivelato il luogotenente dei carabinieri del Rosso, Francesco Nasca, ascoltato ieri pomeriggio davanti al tribunale di Marsala nell'ambito del processo contro il settantenne medico di Campobello di Mazzara, Alfonso Tumbarello, imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici per avere redatto numerosi certificati a nome di Buonafede Andrea per consentire al capo mafia Castelvetranese di potersi sottoporre ad accertamenti diagnostici, interventi chirurgici e cure. Rispondendo alle domande del PM, della DDA Gianluca De Leo e del presidente Vito Marcello Saladino, l'investigatore ha illustrato l'iter delle indagini che hanno consentito di accertare che quello che su diverse cartelle cliniche e ricette mediche era indicato, come Andrea Bonafede, classe 1963 di Campobello di Mazzara, malato oncologico, era in realtà Matteo Messina Denaro. Messina Denaro, ha continuato Nasca, è stato ricoverato all'ospedale di Mazzara del Vallo il 5 novembre 2020, dove fu operato il 9 e dimesso il 13. A compilare la scheda di accesso fu il dottor Giacomo Urso, il chirurgo che l'avrebbe operato. A fornire un supporto logistico fondamentale è stato il cugino omonimo di Andrea Bonafede, classe 69, che va a prendere le ricette da Tumbarello, si intesta un'utenza telefonica che cede a Messina Denaro durante il ricovero a Mazzara del Vallo e lo accompagna prima all'ospedale mazzarese e poi il 9 dicembre 2020 all'ospedale di Trapani per un consulto oncologico. Celebrata a Pantelleria la cerimonia per la giornata dell'Unità Nazionale della Costituzione dell'Inno e della Bandiera. È stata celebrata a Pantelleria, presso il distaccamento aeroportuale dell'Aeronautica Militare, la giornata dell'Unità Nazionale della Costituzione dell'Inno e della Bandiera. Fortemente voluta dal colonnello Franco Linzalone, comandante della base, è la prima volta che viene celebrata sull'isola. Si è voluto così ricordare il 17 marzo, data della proclamazione dell'Unità d'Italia, avvenuta a Torino nel 1861. Una ricorrenza piuttosto recente, istituita solo nel novembre 2012, con l'obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e consolidare l'identità nazionale, attraverso il ricordo e la memoria civica. Il colonnello Linzalone ha sottolineato come queste giornate aiutino a riflettere, sul significato dei simboli della Repubblica e sui valori che rappresentano, quale fondamento della nostra convivenza civile. Onorare l'unità nazionale significa ricordare il sacrificio di chi ha dato la vita per la propria patria e sentire ogni luogo del territorio italiano come casa propria. Nella Costituzione si trova il fondamento dei principi etici, a difesa della persona e della sua dignità, del lavoro e della libertà. L'inno nazionale e la bandiera tricolore sono simbole di una identità che genera sicurezza e orgoglio per la storia e la cultura che testimoniano. Il sindaco d'Ancona ha poi ricordato come la lunga storia del risorgimento e dell'unità d'Italia abbia portato a realizzare gli ideali di indipendenza, libertà e democrazia che sono stati la base della nascita della Repubblica e della Carta Costituzionale di cui oggi andiamo fieri. Una storia che ha visto protagonista il popolo italiano, artefice del percorso che ha portato alla costruzione della nostra patria. Entrano sempre più nel vivo i preparativi alla Settimana Santa Trapanese. I nostri microfoni, Paola Colicchia, presidentessa dell'associazione La Strada della Passione, ha illustrato alcune iniziative collaterali alle processioni in città. Manca sempre meno alla Settimana Santa a Trapani, però sono tante le iniziative in essere che si stanno svolgendo e che poi a brevissimo prenderanno sempre più corpo. Ci può fare lei un pochettino il punto della situazione su quella che è la fase di organizzazione di tutti questi eventi? Collaboriamo alla rievocazione di tutti i riti storici della Settimana Santa collaborando sempre con l'Unione Maestranze. Quest'anno stiamo portando avanti soprattutto due eventi, drappi e vetrine in Settimana Santa, nel quale chiediamo ai commercianti del Centro Storico e ai commercianti che sono interessati dal percorso delle processioni della Settimana Santa di adornare le loro vetrine con qualcosa inerente alla Settimana Santa e con foto, ceri, con qualsiasi cosa appunto rimandi alla Settimana Santa. In più chiediamo agli abitanti del Centro Storico, soprattutto del percorso delle processioni della Settimana Santa, di adornare i loro balconi, come si faceva già anticamente durante le processioni, e di adornare i loro balconi con dei drappi di color porpora o bianchi da esporre durante tutta la Settimana Santa, alla Domenica delle Palme e alla Domenica di Pasqua. In più ripeteremo di nuovo il concorso fotografico in silenzio per passione, ricordando la seconda edizione di questo concorso che ci rivede interessati perché è un concorso fotografico in ricordo di una nostra associata e di un rappresentante importante dei misteri della Settimana Santa, Tiziana Taormina, che è venuta a mancare qualche anno fa. Questa seconda edizione prevede che appunto gli interessati, amatori o professionisti scattino delle foto durante la Settimana Santa, durante questi riti e le varie processioni, e poi li invino per partecipare a questo concorso. Quindi stiamo entrando veramente nel vivo di questi riti importanti per la città di Trapani, per i trapanesi che credono ancora in questi valori e che vogliono portarli avanti e non farli mai dimenticare da coloro che ci credono. E noi ci crediamo tanto, quindi vi chiediamo quanto più possibile la vostra partecipazione. Ci fermiamo solo per una breve pausa. Festa di primavera a Valderic, questa mattina cerimonia per ricordare i bambini vittime di mafia e di guerra. Nel Capodanno Bai si tratta di un'antica festa che coinvolge una piccola comunità presente nel Trapanese. E poi lo sport, ecco il nuovo coach Andrea Diana, allenerà la Trapani Shark, per lui contratto fino a giugno 2025. Stamattina si è celebrata a Valderice la festa di primavera in memoria dei bambini uccisi da tutte le mafie. Canti, giochi, balli per ricordare i bambini vittime di mafia, dei naufragi e di tutte le guerre. Celebrata questa mattina come di consueto la festa di primavera a Valderice, promossa in collaborazione con l'associazione Vado Ok. La stagione della primavera viene associata al ricordo di queste piccole vittime trucidate per le colpe commesse dagli adulti. Ma questa stagione porta in sé anche il risveglio delle coscienze ed è con questo animo che il nostro pensiero va alle giovani vittime e alle loro famiglie. I loro nomi, ricordati e scanditi dai coetanei, rendono alla manifestazione un momento di grande commozione e ci fanno riflettere sulle atrocità che la mafia ha commesso. La nostra terra in primavera, sottolinea il sindaco Francesco Stabile, si riempie di colori e odori meravigliosi. A ospico che questa nostra Sicilia possa essere un giorno menzionata e ricordata solo per le sue bellezze e peculiarità. Questo pomeriggio sarà inaugurato l'altare di San Giuseppe nella parrocchia dedicata al Santo a Casa Santa Erice. Abbiamo ascoltato Don Michele Palermo. Unione, passione e fede sono questi tre elementi che rendono l'altare di San Giuseppe una delle tradizioni più belle e importanti del nostro territorio. Ma non solo a Salimio a Marettimo, a Casa Santa Erice. Ad esempio c'è un altare dedicato al Santo Patrono, dei lavoratori e dei papà. E' quello realizzato dalla parrocchia di San Giuseppe affidata ai padri rosminiani. 120 kg di farina e tanta buona volontà sono le caratteristiche principali di questo altare realizzato per la prima volta in piena pandemia e che sarà visitabile anche nei prossimi giorni. Nel 2020 abbiamo iniziato, prima eravamo ancora al tempo della pandemia, in chiesa nella sua cappella di San Giuseppe e poi in questi tre anni l'abbiamo fatto qui in maniera più grande. Quest'anno l'altare abbiamo voluto riprodurre l'immagine e la facciata della nostra chiesa parrocchiale e quindi seguendo anche i simboli che l'altare di San Giuseppe nella tradizione contiene ecco quindi troviamo i segni dell'Eucarestia che sono i segni della fede poi che nel pietà popolare le famiglie nutrivano attraverso la fede. Il cuore di Giuseppe, di Maria e di Gesù con i loro iniziali riprodurcono anche questo tema di invocare la famiglia di Nazareth. Poi abbiamo il pavone come il segno dell'abbondanza poi le sabatte come il segno quindi della vita così familiare quindi dell'intimità della casa quindi le sabatte di Maria, di Giuseppe e di Gesù e poi gli attrezzi anche di San Giuseppe che vediamo lì riprodotti e come vedete poi ci sono anche raffigurate l'uva e le spighe che sono il nutrimento poi della vita familiare che come offerta quindi anche con questo segno le famiglie donavano a San Giuseppe e poi ci sono una miriade di fiori ecco come profumo quindi attraverso la fede che sale verso Dio quindi venerando anche l'intercessione di San Giuseppe questa è direi l'idea che abbiamo voluto riprodurre con questo altare monumentale E' stato Max Giusti il protagonista del quinto appuntamento della Rassegna si va in scena del cineteatro Ariston con la direzione artistica di Alessandro Costa vediamo Divertente e coinvolgente lo spettacolo di Max Giusti Bollicine andato in scena sabato sera all'Ariston uno show all'insegna della comicità e del buon umore in cui Giusti rivela le sue verità più scomode e racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno il suo miglior amico confessioni a cuore aperto in un clima di festa con le immancabili bollicine Diciamo a me non piacciono mai gli spettacoli in cui c'è il comico che ti fa gli spiegoni che vuole insegnarti a campare io ho cercato di farvi ridere per un paio d'ore cercando di farlo in maniera molto diretta ma non banale cercando di vedere che in realtà siamo una società in continua evoluzione e dobbiamo essere noi soprattutto noi che siamo qua sopra quelli più bravi anche ad evolversi quando sento alcuni colleghi che dicono che non si può più far ridere da quando c'è il politicarli correct io gli ho voluto smentire anche questo spettacolo si può divertire, ridere senza offendere nessuno il punto di forza l'ho ancora a scoprire sicuramente per me è l'entusiasmo che ho nel portare e raccontare cose nuove per me la grande difficoltà è stata quella di non ripetersi quindi cercare degli argomenti nuovi l'altra grande difficoltà è rendere comprensibile a tutte le latitudini il tuo racconto, la tua idea e portarle in giro dappertutto è un po' di lavoro anche imparare 27 pagine belle fitte fitte tutte nuove a memoria quando sei solo sul palco è un po' faticoso ma è il minimo perché poi se pensi all'applauso finale di stasera tutto ti ripaga beh amici trapanesi devo dire che Trapani è più bella è come se si fosse data una bella lucidata è come se avesse lucidato la sua argenteria è stato veramente un piacere portare a battesimo questa nuova avventura qua grazie per avermi ospitato spero di vedervi presto non far passare altri 16 anni 17 anni più o meno si chiama Navruz ed è il capodanno della comunità Bahai si celebra in coincidenza con l'equinozio di primavera che quest'anno cade domani anche la modesta ma attiva comunità della provincia di Trapani si prepara a questa festa antica risalente pensate a 3000 anni fa Hilnaruz il cui nome significa letteralmente nuovo giorno ha origine nell'antica civiltà persiana e fu Bahá'Hullá fondatore della fede Bahai a scegliere questa data corrispondente all'equinozio di primavera come inizio dell'anno per tutti coloro che seguono la sua fede da oltre 3000 anni questa festa è celebrata da più di 300 milioni di persone in tutto il mondo ed è stata dichiarata giornata internazionale dall'Assemblea delle Nazioni Unite in quanto parte dell'intangibile patrimonio culturale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO la festività verrà celebrata anche in più di 300 città italiane con una serie di incontri aperti a tutti caratterizzati dallo spirito di condivisione e dall'assenza di ritualità ebbene tutti i Bahai del mondo intero si riuniscono questo giorno perché fanno riferenza a Teheran che sarebbe la data di nascita è il luogo dove il fondatore della fede Bahai, Bahá'u'lláh tradotto gloria di Dio si è dichiarato come messaggero dei tempi moderni per i Bahai il Nahruz ha un profondo significato simbolico così come a partire dall'equinozio i raggi del sole scaldano con più intensità la terra risvegliando la natura dal torpore invernale allo stesso modo grazie agli insegnamenti di un nuovo educatore divino Bahá'u'lláh l'umanità si avvia verso una primavera spirituale un'epoca di fioritura della civiltà e di progresso in cui tutta l'umanità vivrà fianco a fianco nella pace e nell'unità lo scopo fondamentale è l'unità del genere umano o meglio ancora considerare il nostro pianeta come una sola famiglia i popoli un solo popolo perché si prega lo stesso Dio e praticamente i messaggeri sono catene successive in cicli diversi Ma che cosa fate per festeggiare appunto il nuovo anno? Ebbè si riuniscono chi ha un centro come Palermo per esempio si riuniscono i Bahá'i con gli amici e i simpatizzanti Bahá'i si prega non solo ma si leggono dei passi degli iscritti Bahá'i si festeggia materialmente e socialmente dunque con un buon repà un buon pranzo eccetera e poi si fa conoscenza fra gli amici si approfondisce la conoscenza personale Il messaggio universale che invece è lanciato a chi non è di Fede Bahá'i qual è? Il messaggio è un messaggio di unità, di amore e di fratellanza Andiamo agli appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente alle 20.30 di Replica anche alle 23 Trasmetteremo la partita del handballerice che nel weekend scorso ha affrontato il Padova Adesso una breve pausa e poi torniamo con lo sport Eccoci pronti con la nostra pagina sportiva Apriamo ovviamente con il basket perché Andrea Diana è il nuovo coach della Trapani Shark Contratto fino a giugno 2025 per l'ex assistente della Virtus Bologna Adesso è ufficiale Andrea Diana il nuovo coach della Trapani Shark L'ufficialità da parte della società è arrivata nella serata di ieri Il nome di Diana è stato il primo a circolare dopo la notizia dell'esonero di Daniele Parente Diana nel 2014-2015 nella prima esperienza da capo allenatore porta a Brescia alle semifinali playoff Nella stagione successiva sempre alla guida della Leonessa ottiene una storica promozione in Serie A Nella stagione 2017-2018 è alla guida in A con Germani Basket Brescia con cui partecipa anche alla Euro Cup Nella dicembre 2019 subentra Luca Dalmonte sulla panchina della Scaligera Basket Verona da cui viene esonerato nel febbraio del 2021 A luglio dello stesso anno è assistente di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna Andrea Diana ha sottoscritto un incontratto con la Trapani Shark fino a giugno 2025 sarà ufficialmente presentato alla stampa domani, mercoledì 20 marzo alle 12 presso la sala stampa Cacco Benvenuti del Palashark Eccoci qui per continuare a parlare di sport con la palla a mano perché Nicola Mainolovic e l'Hend Boleric si separano la decisione è arrivata ieri in maniera consensuale Un fulmine c'è il sereno verrebbe da dire Nicola Mainolovic non è più alla guida della End Boleric la società tramite una nota ha comunicato la separazione consensuale dall'allenatore ieri sera Manolovic ha vinto una Supercoppa e una Coppa Italiana sulla panchina neroverde torna Fernando González Gutiérrez come confermato da Norbert Biesizzo, ospite a Sport Sud Come ti ho già detto noi avevamo già Nando C'era già la partita scorsa tra l'altro No ma c'era già, non è da adesso ma è arrivato già dalla Coppa Italia che c'era già Nando quindi era in seguito a quello che già avevo detto NDR Nando Gutiérrez che è stato già l'allenatore González, perdona Sì, González che è stato il nostro genatore Gutiérrez è il secondo nome che è stato già nostro Poi è andato via perché doveva ritornare in Spagna anche perché gli avevano dato una cattedra all'università e quindi ha deciso quell'anno di andare via quindi avevamo già avuto un anno e mezzo Quindi serata di esoneri e di annunci No ma lui era già arrivato, no ma era già faccia parte dello staff perché avevamo sia Nando come ti dicevo quando è andata via la Meghi abbiamo dovuto per forza di cose cercare subito un aiuto Ed è arrivato poi in gennaio infatti in Coppa Italia già c'era Nando insieme a Manolovic Quindi adesso ci ritroviamo ad avere Nando Nando già a conoscenza ha già partito dal gennaio quindi adesso è normale che poi con l'aiuto anche di Carmelo Benigno che entrerà naturalmente anche, si occuperà quindi già se ne occupava prima dello staff tecnico diciamo che non dovremmo avere nessun contraccolpo da un punto di vista diciamo tecnico perché hanno lavorato insieme diciamo che il progetto è quello si lavora naturalmente per l'obiettivo che abbiamo Weekend nero per le formazioni tra panesi in eccellenza 5 gol del San Vito in promozione quindi guardiamo un appuntamento settimanale con Linea Ditta Ben trovati con l'appuntamento un nuovo appuntamento con Linea Ditta andiamo a fare il resoconto del fine settimana appena trascorso al solito dall'eccellenza alla prima categoria perché in eccellenza è stata una domenica nera per quasi la totalità di tutte le formazioni presenti nel girone A a cominciare dal Castellammare che nella giornata di sabato ha perso 3 a 1 sul campo dell'Atletic Club Palermo con il momentaneo 1 a 1 siglato da Taibi e poi i palermitani hanno fatto proprio i tre punti nel corso della ripresa e doveva essere una buona chance per l'Accademia Trapani che purtroppo ha dilapidato il tutto andando a perdere in casa contro il Casteldaccia per 2 a 0 tra l'altro l'Accademia ha dovuto far fronte pure alla sfortuna perché De Benedictis ha preso un palo e poi al 95esimo un contropiede per il 2 a 0 finale da parte del Casteldaccia minuti finali fatali anche per la Folgore che perde al 95esimo contro il Misilmeri e anche per il Mazzara che soprattutto si deve mangiare le mani perché Geraci alla fine del primo tempo stava vincendo per 2 a 0 poi nel finale il 3 a 3 vince tra le trapanesi il Mazzara 46 4 gol contro il super giovane Castelbuono trascinato tra l'altro da una doppietta dell'ex datilo il centrocampista Pace domenica nerissima invece per il Fulgatore che in casa della Capolista la Nissa riceve addirittura 7 gol bellissimo però il gol di Danilo Daguano per il momentaneo 2 a 1 andiamo a dare uno sguardo a quella che la classifica dopo 26 giornate di eccellenza con la Nissa 71 punti al primo posto a seguire il Profavare che ha vinto tra l'altro salendo poi a 64 altro successo per il Mazzara 46 e al quarto posto a meno 6 punti dalla terza posizione c'è il Castellammare a 42 e poi attenzione a quella che è la zona calda della classifica perché la Folgore a 31 punti è distante solamente tre lunghezze dai play-out dove c'è il Casteldarce a 28 Accademia a 26 Fulgatore a 21 Aspra a 18 e quindi come detto il Mazzara a 17 scendiamo in promozione perché il San Vito prosegue la propria marcia straordinaria addirittura 5 gol contro l'Alba Alcamo in gol Minagro e Bulades e poi ancora Rosselli e doppietta di Pirrotta contro l'Alba Alcamo già certa della salvezza e poi buona anche la prova del Marsala che si rilancia sempre più in proiezione di play-off con il 2-0 sul campo dell'Empedoglina doppietta tutta di rigore siglata da Iannotti mentre al primo posto rimane il San Giorgio Piana che vince 3-1 con il partito di Caudaccio andiamo a vedere quindi cosa cambia nella classifica effettivamente cambia poco con il San Giorgio Piana che si mantiene in prima posizione a 54 e poi subito dopo il San Vito Lo Capo a 51 e al terzo posto c'è sempre la Parmonval con 50 e il Marsala poi staccato di 8 lunghezze a 42 così come il Bagheria e poi ancora andiamo a chiudere il giro dei nostri campi in prima categoria perché il Valderice ha ricevuto la Regina Mundi che è già certa di disputare il prossimo campionato di promozione 3-3 pari e spettacolo al misericordia proprio di Valderice in gol tra l'altro per i neroverdi Bassallo e poi 7 gol dell'Alcamo 1928 contro il Città di Cinesi si rialza il Custonaci che va a vincere 7-0 sul campo dell'Atletico Marsala poi 3-1 in trasferta del Belice Sport contro il Terrasini e un segno X tra Salemi e Primavera Marsala quindi 1-1 finale classifica a due a quelle che sono le giornate che restano poche per questo campionato di prima categoria con il Regina Mundi già certo come detto della matematica di aver vinto il campionato a 58 poi l'Alcamo 1928 a 50 e poi Margheritese e Valderice a Braccetto a 45 e Belice a 44 ma in leggero vantaggio sullo sport Palermo quindi questa è la situazione di quelle che sono stati i campionati nell'ultimo weekend almeno per il momento giocati dall'eccellenza fino alla prima categoria chiaramente restiamo sempre su linea ditta e io vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana a Marettimo continuano i festeggiamenti in onore di San Giuseppe che è il patrono dell'isola questo pomeriggio alle 16 uscirà la processione che si snoderà per le vie del paese come da tradizione ieri è stata la giornata della Dumoniara i tre fuochi votivi in onore di Gesù Giuseppe e Maria mentre di mattina e di pomeriggio in piazza si sono tenuti tradizionali giochi folcloristici in serata sono continuati gli spettacoli con la musica di Lidia Schillaci della sua band e a seguire il cabaret di Toti e Totino un programma di iniziative curato dalla diocesi di Trapani dal comune dell'Egadi dalla Proloco e dal comitato dei festeggiamenti la processione la festa di San Giuseppe è per noi un onore portare avanti è una tradizione che si tramanda di padre in figlio io e da piccolino per esempio che sono sempre a contatto con la vecchia guardia diciamo così del comitato sono il nuovo presidente e sono orgoglioso di esserlo perché ripeto è una vita la mia vita che è sempre stata dedicata al santo e a festeggiarlo con me ci sono anche altri ragazzi che hanno seguito l'esempio della vecchia generazione e siamo tutti orgogliosi di farne parte questa mattina in piazza si è tenuta invece la cerimonia delle alloggiate mentre nel pomeriggio uscirà la processione con le statue di San Giuseppe e San Francesco di Paola la ricorrenza è molto sentita dalla comunità di Marettimo e tra i vari momenti che scandiscono questo appuntamento religioso c'è la sistemazione di tutti gli addobbi votivi l'oro donato dai fedeli nel corso degli anni che viene esposto la vigilia e nel giorno della processione quello che stiamo facendo adesso non è altro che riporre tutti i doni votivi dati alla statua di San Giuseppe che per uno per ogni venenza per qualsiasi venenza dà un voto così alla statua e si porteranno in giro per il paese assieme alla statua alle figlie di San Giuseppe in processione il giorno 19 stiamo mettendo dei beni votivi che oro medaglie insomma sono dei ricordi che la gente ha donato alla chiesa ha donato non alla chiesa ma proprio a San Giuseppe perché magari ha ricevuto dei come vogliamo dire forse i miracoli sarebbero una cosa un po' troppo esagerata però insomma ha avuto delle grazie ecco chiamiamole grazie per grazie ha ricevuto ha dato dei doni così all'effigio di San Giuseppe e si porteranno in giro per il paese assieme alla statua a Marettimo per i festeggiamenti in onore di San Giuseppe anche il sindaco delega di Forgione un messaggio intanto di speranza per il futuro per le donne per gli uomini per i giovani per gli anziani di una comunità che attorno alla festa del loro patrono San Giuseppe non ritrovano solo le radici ma anche come dire l'investimento augurale per il futuro e questa festa ha un doppio valore il valore religioso per chi nella fede verso San Giuseppe e verso la propria identità cristiana investe la sua vita le sue speranze anche affida i dolori affida le sofferenze però ha anche un messaggio laico attorno a questa festa si ritrova l'identità di una comunità ritornano gli emigrati anche ora che hanno lasciato questa terra per cercare fortuna per il proprio futuro altrove e quindi è un momento importante